Non siamo ancora al disastro ma l'allarme meteo lanciato da Coldiretti è massimo rispetto alle temperature rigide di questi giorni soprattutto nella notte dove si va sotto lo zero. Il pericolo è per i frutteti che sono dislocati in provincia di Arezzo nella Val di Chiana. Un bilancio vero e proprio dei danni lo potremo fare tra qualche giorno spiega Francesco Randellini produttore di frutta della Val di Chiana a retina ma la preoccupazione è davvero forte. I trattamenti antibrina sono stati effettuati da tutti i produttori ma come spiega Angelo Casi dell'azienda Merelli di Alberoro per alcune colture non è possibile farlo come ad esempio per i meli. Insomma dicono gli agricoltori della zona il brusco abbassamento della temperatura con la caduta della neve fuori stagione potrebbe mettere a rischio i raccolti di frutta ma anche la vite può essere considerata in pericolo a causa dello sviluppo anticipato della primavera seguito dalle micidiali gelate notturne.